Pasquale e Daniello, sono quattro, una partita voluta veramente con tanta intensità dalle ragazze anche nei momenti difficili. Sì, adesso possiamo dirlo, questa vittoria ci spalanca la semifinale, la porta alla semifinale, siamo molto contenti, questo risultato giocando in casa era il minimo sindacale, lo abbiamo raggiunto, è stato più difficile di quanto ci immaginassimo perché chiaramente il livello delle nazionali del 16 negli ultimi due anni è molto cresciuto, però noi non siamo da meno, abbiamo combattuto, siamo stati molto bravi nei primi due set, sul primo siamo stati quasi al limite della perfezione. Poi chiaramente è venuto un po' fuori la Serbia che ha combattuto e poi il terzo, devo dare atto alla mia panchina che nel momento in cui bisognava tirar fuori quegli uno o due palloni da fare la differenza sono state magnifiche, quindi complimenti a loro, complimenti alle ragazze che hanno tenuto un'intensità pazzesca per tutto il corso della gara e adesso ci godiamo questo momento, fermo restando che domani proveremo anche a giocarci il primo posto con la Turchia. Ma facciamo un complimento anche al coach che ha perfeccato bene i cambi? Beh sì, d'altronde noi siamo qui per questo, insomma indovinare un cambio per un allenatore credo sia il minimo che gli si possa chiedere e piuttosto noi tentiamo, poi sono loro che vanno nel campo e devono essere brave a realizzare quello che noi abbiamo in animo quando facciamo il cambio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.